L'Associazione Concerto Musicale Città di Trapani insieme al cuoro della Scuola Ducalosta vi dà il benvenuto al grande concerto di Natale. La performance che tra qualche istante inizierà è inserita nel progetto educativo musicale denominato La banda di Trapani va a scuola, in collaborazione con il primo circo limitativo Leonardo da Vinci di Trapani e che prevede il coinvolgimento di tutti i bambini della e dell'intimo anno della Scuola dell'infanzia del presso Ducalosta. Il progetto nasce dall'esigenza di evidenziare il contenuto culturale del far musica nelle bande, proiettando i bambini verso un atteggiamento attivo nei confronti della realtà musicale del nostro territorio. Questa sera i nostri piccoli artisti insieme alla banda diretta da maestro Alessandro Carpidella saranno i protagonisti di questo grande spettacolo, unico del suo genere, durante il quale chiederanno dal vivo dei brani prettamente natalizi. Il tutto con lo scopo di sviluppare le capacità collaborative e comunicative, ma soprattutto la scoperta del significato del far festa in un clima di amicizia, di solidarietà, di pace e quindi per cedire il significato del Natale come messaggio di fratellanza universale che parte proprio dal nostro territorio. Cari genitori, cari genitori, alla vigilia del Santo Natale, insieme alla banda musicale città di Trabania vogliamo augurare buone feste, vogliamo augurare buone feste con questa manifestazione che vuole essere un himno per l'amore, per la pace e per la pace. vogliamo augurare buone feste con questa manifestazione che vuole essere un himno per l'amore, per l'amore di Natale portare ai nostri cuori tanti buoni proposi che noi ci auguriamo possano realizzarsi per creare un mondo più sereno dove l'amore possa rispondere come l'anificio albero di Natale. Bene gentili presenti, apriamo lo spettacolo accogliendo calorosamente i più piccini, i piccoli tetti dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e della prima classe della primaria. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!